Tutti gli astronauti impegnati sulla Stazione Speziale Internazionale devono passare un periodo di addestramento che varia in base al livello di professionalità richiesta. Nella mia prima missione volare nel 2013 io ero a livello utilizzatore e questa volta con la spedizione 6061 acquisirò il livello di operatore. Siamo pronti e comincia tutta un'altra avventura. La paura non è debolezza, anzi è nella paura che si vede il coraggio. Vi siete mai chiesti chi ha inventato il cinema? Storicamente il primo prodotto simile ai film di oggi è il cortometraggio dei Lumière La sortie desuisine Lumière che rappresentava l'uscita degli operai dalla fabbrica gestita dai due fratelli. Conteneva tutti gli elementi del cinema primitivo riprendendo soggetti in movimento in una situazione reale. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!